Non è in pericolo di vita l'uomo accoltellato nel pomeriggio di giovedì all'interno dei giardinetti del centro commerciale Minerva in Viale Cesare Battisti a Pavia. Il ferito, di cui ancora non si conoscono le generalità, era stato colpito da diverse coltellate al torace, all'addome, alla schiena e alle gambe. Trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo, era stato sottoposto a un intervento d'urgenza. La lama, fortunatamente, non avrebbe però le esorgani vitali e il ferito si trova ora ricoverato in rianimazione. La prognosi rimane riservata, ma potrebbe presto venire trasferito in chirurgia per il decorso post-operatorio. Nella serata di giovedì si era diffusa la notizia di un possibile fermo di un uomo da parte della polizia, indiscrezione che però al momento non è ancora stata confermata. L'accusa per il suo aggressore, ad ogni modo, potrebbe essere di lesioni gravi o di tentato omicidio. La lite era scoppiata attorno alle 14 di giovedì. I due uomini avevano iniziato a discutere, per motivi ancora da chiarire, e a un tratto uno di loro aveva estratto il coltello e colpito più volte il rivale. Dopo aver sentito le urla, alcuni passanti avevano chiamato i soccorsi. Il ferito era stato trasportato d'urgenza in ospedale, mentre i poliziotti e gli uomini della scientifica sono rimasti a lungo nei giardinetti per ricostruire quanto successo.